Lettera apostolica di Papa Francesco Noi, accogliendo il desiderio del nostro fratello Domenico Sorrentino, Arcivescovo, Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, di molti altri fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica, concediamo che il venerabile Servo di Dio, Carlo Acutis Laico, che con l'entusiasmo della giovinezza coltivò l'amicizia con Gesù, mettendo l'Eucaristia e la testimonianza della carità, al centro della propria vita, d'ora in poi sia chiamato Beato e che sia celebrato ogni anno, nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto, il 12 ottobre, giorno della sua nascita al cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dato a Roma, all'Aterano, il 10 settembre dell'anno del Signore 2020, ottavo del nostro Pontificato, Francesco Papa. Ci tiriamo verso l'Areligio. Un applauso giustizia il ошибo. Un applauso giustizia il nostro politico direttore. Un applauso giustizia il nostro concessionario. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti